La formazione rossa-azzurra La fase difensiva concedeva veramente poco. La Domus Bet è andato tutto bene alla prima, le gambe ancora non sono straordinarie però poi alla fine i gol sono arrivati, sono stati decisivi e sono stati importanti per cercare di centrare la vittoria finale. Per Della Negra un ottimo test in vista poi adesso della partita contro la Catanese che sancirà l'eventuale accesso alla semifinale. Per andare in cronaca subito è stata pericolosa la formazione di Viareggio con la conclusione che si è spenta al di là dei pali. Poi Catania con Rodrigo e lo show dell'attaccante brasiliano contro il portiere di Pisa che è stato veramente reattivo e bravo in molti interventi compresa la traversa poi sfortunata di Gabriel. Catania che però ci ha sempre creduto, Catania che ha cercato sempre di gestire la gara soprattutto col possesso palla. Un possesso palla che ha portato anche a tantissime ripartenze, ripartenze importanti e soprattutto dove il roster si è sempre esaltato come il palo di Zurlo, il tiro che per poco non andava in gol. Poi l'occasione, Rodrigo che viene fermato e Ortolini da fuori a mettere la palla dentro per l'1-0 e il vantaggio sul finire del primo tempo ma c'è stata anche tanta ma tanta sofferenza. All'inizio della ripresa poi Pisa pericoloso ma bua c'era ma il Catania gestiva sempre il possesso di palla. Nico anche in acrobazia provava alcune giocate. La partita andava sulla stanca soprattutto all'inizio del secondo tempo con tiri e capovolgimenti di fronte. Il palo del Pisa che andava vicino al gol all'inizio del secondo tempo ma sul ribaltamento di fronte la grande giocata era quella di Maradona che trovava anche la sabbia fortunata. Dieghito riusciva a firmare anche lui col gol, il suo battesimo con la maglia rossa-azzurra. Insomma un 2-0 che ci sta, un 2-0 che poi alla fine viene legittimato dalla formazione rossa-azzurra che è uscita fuori nel terzo e decisivo tempo. Sono stati anche molto ma molto bravi sia Del Mestre che Bua e soprattutto Dieghito anche con le sue giocate d'alta scuola sulla sabbia ha impreziosito un po' tutti. O le rovesciate volanti di Rodrigo e Zurlo che per poco non hanno dato grandissimo spettacolo. 2-0 adesso la Catanese per cercare di accedere alla semifinale. Il vero grande obiettivo del Catania è raggiungere la finale e vincere questa benedetta Coppa Italia.